Possiamo vedere, abbiamo una nostra centrale operativa attiva 24 ore su 24, per controllare tutto quello che avviene sulla provincia di La Spezia e anche su quella di Massacarrara, abbiamo 11 pattuglie giornalmente impegnate sul territorio a controllare le nostre zone operative, dove sono presenti la totalità dei nostri dipendenti che sono 80 persone che costantemente danno il loro meglio per far sì che questa società e questo istituto funzioni nella perfezione. Il dato del 2011 è un dato importantissimo, 923 mila chilometri effettuati sulla provincia di La Spezia, 10 mila interventi da parte delle nostre pattuglie, 75 furti sventati, questi sono i numeri dell'istituto vigilanza La Lince di La Spezia che operando anche sulla provincia di Massacarrara sta ingrandendo lo suo operato e la sua attività. Abbiamo nel 2007 un servizio di chiusura sicura sulla Spezia e su Sarzana dove abbiamo praticamente un aiuto alle attività commerciali, durante la chiusura abbiamo una nostra guardia che costantemente controlla la zona centrale di La Spezia. Come lei diceva, la maggioranza di attività commerciali collegate con il nostro istituto, ma anche tanti privati che affidano la protezione delle loro abitazioni al nostro operato. Certificato sul nostro manuale della qualità è un intervento di 8 minuti, che però siamo riusciti a fare anche meglio della nostra certificazione, nel senso che oggi l'intervento garantito è 6,33 minuti sul manuale della qualità. Questo dà proprio la presenza, l'idea della nostra costante presenza sul territorio con le 11 pattuglie. È anche un modo per dare un giusto riscontro positivo ai nostri dipendenti perché questo risultato è grazie veramente al loro operato. Il numero di macchine sul territorio, come diceva, è effettivamente molto importante, risponde a una precisa scelta dell'azienda che è quella di cercare di garantire dei tempi di intervento il più limitati possibili. Nell'arco dell'anno sono stati sventati 75 furti, in cui sarei colpevole se non ringraziassi pubblicamente le forze dell'ordine perché veramente sul campo siamo riusciti a consolidare nell'arco degli anni un rapporto di collaborazione importante che ha consentito anche questi risultati.